Stefano Sturaro è tornato in campo a Empoli. Claudio Marchisio vorrebbe tanto essere tra i convocati per la prossima partita. Hernanes e Alexandro, non convocati al Brasile, si alleneranno al meglio in queste due settimane a Vinovo, così come Patrice Evra e Federico Mattiello che sta recuperando un po' la volta dall'infortunio. Max Allegri, insomma, dalla sfida cludinese in poi potrebbe puntare su nuove e brillanti forze proprio nel settore più criticato da inizio stagione. Senza contare che la nazionale avrà fatto cambiare aria al nervoso Chedira di Empoli e magari fatto trovare un sorriso a chi, come l'Iksteiner, finora ha trovato invece solo poco spazio. Un reparto nel corso delle gare potrebbe anche modificare il suo setto, passare da 5 a 4, continuare quell'evoluzione provata a Zagabria e contro l'Empoli. Anche perché uomini, forze e spirito nuovo servono e come al centrocampo della Juventus in questo delicato mese di ottobre, quando si deciderà il percorso in Champions con la trasferta di Lione e quando la Juve affronterà Milan e Napoli. Intanto a Vinovo si è tornato a correre, così in pochi che si fa al massimo una squadra di calcetto con riserva, in attesa poi di dividere il centro sportivo con la nazionale nei giorni dopo la Spagna. E chissà l'effetto che farà ai quattro bianconeri allenarsi a poche centinaia di metri dai compagni di squadra, magari anche sotto gli occhi di Allegri e non solo quelli di Ventura. Da Vinovo per Sky Sport 24, Francesco Cosatti